Ciao. Ciao. Che c'è? Pensi di cavartela così? Ieri sera, Joel? Il vodka martini? Quel vestito? Oh, Joel! È una donna di gran classe, G. Ah, forse non grande, ma di sicuro è di classe. È senza dubbio un dieci. Ma andiamo. Non dico che non sia tre. Ma non le dai un dieci? Un nove tondo. È apparsa per magia nella tua vita senza che muovessi un dito. Allora? Beh, questo dovrebbe valere almeno un altro punto. È più il tuo tipo che il mio. Che cosa c'è che non va nel mio tipo? Niente. Tu hai un ottimo gusto, Michelle è la migliore. Ah, non pensare, rispondi di getto. Un voto da uno a dieci. Otto. Nove. Guarda con attenzione. Dieci. Dieci, decisamente. Ti ringrazio. È uno schianto, un vero schianto. Sicuro? È bella da mozzare il schianto. Esatto. Sì, sì, sì. Oh, interessante. È Joel. Ti ha inviato un messaggio? Le avevo chiesto di dare un voto alla serata di ieri. E? Ho interrotto qualcosa? Ovviamente era una domanda retorica. Andiamo, Casanova. Allora? Chi viene a farsi una birra? Io ci sto volentieri. Un'altra volta. Il tuo prossimo incarico, Nate? Se te lo dicessi, Sam, e poi dovrei... È riservato. Sta imparando. Ah. Interessante, Joel. Sta modificando il suo voto. Non ci può fare. Un voto è definitivo. Da questo non lo era. L'ha cambiato. Ah. Ok, Teddy. Qual è il mio nuovo voto? Un momento. Come ti ha chiamato? Da quando sei Teddy? A meno che non abbiate concorso al titolo di Miss Universo, dimenticate Teddy. Teddy si intona con il Tia de Pouche. Dice? Un nome raffinato. Io trovo che si addica a un effeminato. Ehi, ehi! Teddy! Teddy! Signori? Non capita spesso che tu vada via prima di noi. Non capita spesso che un mio vecchio amico si trovi in città. Dove andrà Tuon adesso? Lui non me lo dirà. E io non glielo chiederò. Già. La tribù è in buone mani. Davvero? Qualunque cosa accada. Questa è una promessa. Beh, non vi entusiasmate troppo. Sarò di ritorno prima che possiate dare fuoco a questo posto. Tuon ha ragione. È il nostro fuoco. Sì, ma su una torta di compleanno. Andiamo. Questo è barare. E se avessi detto che ero io che stavo dando fuoco alla sua coda di cavallo? Può essere qualunque cosa fondiamo. Sì, certo. Grazie. Grazie. Grazie.